Sabato a Malaga si deciderà se l'Aquila, battendo la concorrenza di Tampere in Finlandia e Gothenburg in Svezia, sarà selezionata per ospitare il Master di Atletica dal 16 al 31 luglio del 2022. Domani anche il consigliere Pierpaolo Petrucci partirà alla volta di Malaga. Gianni Lolli è già lì. Oggi è stato proiettato intanto il video per la candidatura della città. Abbiamo deciso oggi di fare questa conferenza stampa con il sindaco dell'Aquila perché in contemporanea alle 10 e mezza, adesso, diciamo, io ho già sentito dieci minuti fa della verità, da questa mattina alle 6 e mezzo mi ha chiamato Gianni Lolli che è a Malaga, che ci hanno anticipato, noi andremo sabato, alle 10 e mezzo verrà proiettato il video che presenterà la candidatura dell'Aquila ai Mondiali Master di Atletica 2022. Sale chiaramente l'attesa, già per noi è un grande risultato il fatto che l'Aquila sia stata scelta dall'Italia, dal CONI, ad essere la città individuata per ospitare questi Mondiali Master di Atletica. Abbiamo fatto un lavoro straordinario, peraltro con pochissime risorse, perché chiaramente non si può destinare una cifra importante, diciamo, se non c'è la certezza che i Mondiali saranno assegnati all'Aquila. È un evento straordinario, ancora non si è capito. L'importanza dopo le Olimpiadi e i campionati mondiali veri e propri, è il primo evento importante in termini di numeri di presenze delle persone su un territorio. Pensate che se ci assegneranno questi Mondiali sarà prevista la presenza di non meno di 10.000 atleti. Il sindaco non farà parte della carovana che andrà a Malaga, ma assicura di aver sposato completamente il progetto e l'iniziativa, che avrà risvolti sull'Aquila importanti se tutto andrà bene. Sindaco c'è attesa per sabato, lei andrà a Malaga a fare parte di questa carovana per spingere verso la candidatura? No, io rimango all'Aquila a presidiare il territorio, ci sarà chi andrà e speriamo di avere un esito positivo da questa iniziativa, che naturalmente comporterà un impegno molto importante, molto pressante e crediamo che con il sostegno di tutte le istituzioni si possa riuscire a far percepire che l'Aquila è in grado di ospitare anche grandi eventi, così come è stato per la donata degli alpini, così come è stato recentemente per il jazz e per la perdonanza celestiniana, dando l'idea di una città normale, di una città che è in grado di tornare alla sua quotidianità e che è una città in grado di vivere l'ordinarietà di eventi importanti.